Non mangia più nessuno, sono diventate tutte vegetariane, vegane, tutte buddiste, tutte buddiste, molte buddhane però. Volevo vedere il ginsing quello lì in vetrina, me lo prende, mi dispiace per lei non ce la taglia. Ancora non ti ho detto quanto porto, stronza. Ditele a quelle amiche che a vent'anni si fanno il braccialetto molto tatuato sopra la coscia, glielo volete dire che poi a 50 anni il braccialetto ti vende una cavigliera. Guardi vorrei una crema all'aloe vera, ha detto sono 85 euro, me la dia pure falsa ma buono stesso. Sono viaggi per i single, ristoranti per i single, anche il verme intestinale non si chiama più solitario, verme single, perché l'inglese cambia quasi significato alle parole, che adesso fateci caso, tipo escort, tutta un'altra mignotta, senti che suona, senti. Per me MILF significa, mo inizia la felicità. Tu esci con uno di vent'anni, chi fa parte proprio del circo dei solei, chi li so circensi? Ah, tu ti piace, mi sei un coppo nervisciatico. L'uomo ingrassa? Non dipende da lui. Sono ingrassata perché è un periodo, è lo stress, poi passa. L'uomo perde i capelli? È un periodo, è lo stress, poi passa. L'uomo sta incazzato? Dice, è un periodo, sto un po' nervoso, è un periodo, sto stressato, ma poi passa. Non fa l'amore? È un periodo? Sto stressato, poi passa. Lui è stressato. Tu che stai con uno chiattone, calvo, incazzato che non ti tromba, mentre aspetti che gli passa, non lo trovi a un altro che ti ripassa, scusate.